ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo tutorial di wordpress che potete trovare a questo indirizzo che vedete in blu nella barra degli indirizzi del browser veniamo quindi a cominciare e parlarvi del plugin per la gestione delle immagini e foto parliamo in questo articolo dei plugins di wordpress per le immagini in quanto le immagini stesse sono alla base di questo cms e dei visitatori che vengono a vedere il vostro sito ma queste immagini e che sono sempre più di maggiori dimensioni devono essere ottimizzate al fine di velocizzare il sito web stesso per questo ormai i principali plugins di cache come vp rocket appogamento v3 total cache e vp super cache hanno un meccanismo di precarica delle immagini e ci sono poi invece anche tutta una serie di plugins e si occupano della riduzione del peso delle immagini come vp smash ma andiamo un attimino a cominciare e il primo plugins che vi consiglio è next game gallery diciamo che si tratta forse del più vecchio plugin se vuoi prest è uno dei meglio realizzati difficilmente genera contrasti con altri plugins se volete costruire un sito che sia una galleria di foto grazie a questo plugin vi sarà possibile caricare le immagini ridurre il peso e organizzare gli scatti stessi secondo varie gallerie che potete creare alle gallerie stesse potete anche aggiungere dei metadati impostare le visualizzazioni delle stesse secondo dei metadati e altra cura e qui vi lascio il sito dove raggiungerlo si tratta di un plugin se molto semplice vi sto parlando di media cleaner da utilizzare non ha nulla a che vedere con il precedente serve principalmente per i blog di grandi dimensioni che hanno la tendenza a sovrapporre immagini e quindi a sovraccaricare il server lo scopo di media cleaner è proprio quello di pulire la vostra libreria multimediale infatti questo plugins elimina le voci che non vengono utilizzate per precauzione prima di eliminare definitivamente le voci le stesse vengono messe in un cestino provvisorio che vi permetterà di verificare che tutto funziona a dovere prima di dell'eliminazione definitiva perfect image passiamo al prossimo plugin se veramente molto utile lo scopo di rato di questo plugin se quello di permettere la migliore visualizzazione possibile delle immagini sul vostro sito attraverso varie funzioni di individuare le dimensioni corrette delle vostre foto disabilitazione di funzioni inutili sostituisce le foto con nuovi upload genera visual per i dispositivi height dpi controllo di funzioni di scaling per le foto di grandi dimensioni smush smush di cui vi ho già parlato è un plugin che vi permette l'ottimizzazione delle immagini riducendo il peso delle stesse e comprimendole fa il resize automatico fino alla dimensione giusta nella versione a pagamento può effettuare anche la conversione dell'immagine nel formato web p immagify è molto simile a smash ma pensato per chi utilizza i plugins wp rocket è sostanzialmente un complessore di immagini esiste anche la possibilità di ridimensionare le immagini in blocco grazie ad un solo clic perfetto per la gestione dei portali di ecommerce e con questo è tutto vi lascio alla prossima ciao da fabrizio